C'è una sveglia che si chiude acqua celata sopra quando scatta la sveglia si scappola si chiude stanno in determinati ambienti che se tu sei stupido e anzi ti fai poche domande non pretendi di fare lo sveglio ma guarda, ce lo posto per te metti lì, tu gli immagini, gli fai non gli rompi le palle dopo 5 anni ti ha il blackberry quindi ti fanno ciò che affalmina e tu c'è il blackberry, ci gioca, sta bene, gli gusta però sotto sotto sta a fare i sordi a una multinazionale e lui gioca con l'blackberry ma può raccontare amici che lui fa gli aperiti di milanesi in cui si parla di business però sotto sotto pia 1500 euro di mese e magari c'ha la via a casa che non vede e ne paga 700 euro di pittà vabbè, capitai il generale è tutto in macchina il mio giacca e cravatta anche se fino a ieri hai il mio orecchini un pizzo lungo fino a qui perchè magari faccio le studente quando entri là dentro devi pulire perchè loro vende aria a galla 120 euro l'ora quindi tu non puoi presentarti colore chimico tipo lui non si era fatto la barba non so che cazzo si è presentato lui gabbro gli ha fatto senti e sta barba te la faccio te la fai tutto ma mattina te la faccio io schiare fuori la fai tutto quindi semplicemente il fatto che tu devi far facciata però quando lo fai secondo me troppo spugnatamente è un boomerang perchè adesso io diffido di chi mi vende la roba posta in giacca e cravatta cioè se il prodotto è buono non c'è bisogno di giacca e cravatta lo fai vedere lo provo a funzionare lo vendo aveva una leggenda che si diceva della consulenza che mi dissero facci caso ma sulle grandi società dei consulenti a piccarlo sulle grandi finanziarie andrà c'erano facciano di lavorare le cocaine in bagno quindi facciano gli inclinati per non farci di cogliare ma con 1200 euro me si chiama che più avevo cocaine scusate con quella che costa però quando ce la lavorano non esiste cioè tu devi mettermi davanti a tutto la società quindi favo di domenica di mattina e 12 ore di domenica di domenica di domenica di mattina e 12 ore di domenica anche fino a mezzanotte di domenica